Let's get it guys, se vuoi acquistare skin e v-bugs nel mentre supportare il paurino nazionale ricordatevi che potete scrivere fanatic trattino in mezzo power scritto ovviamente col 3 al posto della e in supporta un creatore, lo trovate in basso a destra nell'item shop di Fortnite ogni tuo futuro acquisto su Fortnite supporterà anche me e vi farò degli splendidi regali Let's get it boys Dov'è? Eh isola A me non mi dice culo mai in quei passi così però Non è culato Marzò ce l'è dietro Marzò Mannaggia Marzò Ma hai coperto proprio a me Eh Fran mi stava... ma ben te lo tu non fossi neanche con me Detto è sopra Eh mi devo... mi devo curare Che cazzo è? Sta pushando? Che cazzo è successo Marzò? Eh non so come mi è arrivato dietro al culo Mi sa che ti è volato addosso comunque No no non ha fatto rumore Si 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 mi senta volato addosso Marzò Ma non ha fatto nessun rumore Eh ma non c'entra se ti è volato addosso con la granata Ma ora non si sentono più le persone eh te lo dico Ma non si sentono più? Boh io non lo sento più le persone che volano Tipo mezzo buggato Io da sto a posto non so proprio che fa What do you do? Giù cad Marzo devi prendere un'arma E cominciare a fightare come un matto subito Senza respiro Un'arma di merda Quella è la pistola a tre colpi scusami Ah le doppie pistole Non avevo capito io Avevo capito la pistola a tre colpi Ma che cazzo è la pistola a tre colpi Come cazzo l'ho messo L'inventario Porco due Bello Quelle pistole de merda Ok l'ho visto l'amico Quanto sono pulito queste pistole Ah io non le ho sentito Non posso muovere Qua c'è un muro invisibile No non giocherà Ma questi che sono spuntati Dalla dietro la porta Tipo cucù Eh mi serve del loot Non posso andare così Cioè questo vuol dire suicidi Andare come sto messo ora No sai che l'unico consiglio che ho per FIFA E' non giocare No davvero No Cazzo marzo Ma perché c'è poco da fare Il problema è che si scrive Quindi o hai la mentalità Di sapere che ci sono certe partite Che non puoi fare niente Purtroppo vanno perse O se no c'è niente Ten cazzo e bamba Ma questo non può morire Questo non voleva morire Una bestia questo eh Quanto gli ho sparato io a questo Ma io sto avvelenato eh Sto avvelenato eh morzo Sì ma ho paura che poi vada a finire Oh vedi il ping adesso è alle stelle però Scusa Oh che cazzo Non è in mira de merda Ah pura la mia Ma t'ha preso No 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 Questo non t'ha preso un corpo No datti E datti il chug Speri mo se avevi il cecchino Cosa serve uno sniper Quando hai questa mira Non ho mai capito Potevi avercela con lo sniper Quella mia Perché devi rifarla Iacco Quando hai le moto Vuol dire che ti sta per Per finire Quindi vai Suonati E riaggiorna Oh what No 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 Va bene Andò sta No va bene Ma è un bambardo Attualmente è troppo facile Comunque sparare Cioè ora È veramente troppo semplice Sparare alla gente Beh dipende Perché Cioè è vero che mi prendono tutti In realtà alcuni li prendo pure io Però comunque Cioè tu lo facevi pure prima Magari adesso ti sembra ancora più facile Ragazzi mi sembra semplicissimo ora Giù isi Quello sta ancora chiedendo che è successo Oh 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 chi è What Eh non è entrato un cazzo No no Eh sì Si è teleportato Mi coglioni Cosa C'è una mira Sgravata Ma queste sono le 20 bombe Eccola Lo sapevo come dicevi Porterai ancora rainbow con power Lo vogliamo dire in questo video di youtube Che magari lo raffacciamo Va bene Va bene Se questo video arriva in tendenza Allora lo facciamo Ops Ok ma là non dipende dalle persone E dai sta a trollare Sta a trollare A chiedere un numero di là Oh ehi Sinistra Hanno preso il danno What Hanno preso 5 di danno Eh a me non l'ho visto Io non l'ho visto Qua Qua sotto Controlla bene bene Che hanno preso 5 di danno blu Ehi Però vedi 40 di pinga adesso Giorgino eh Non ho capito Tiriamo gli zombie Giorgio se lo fai morire dalla safe Eh Eh che ti devo dire se non li vedo Eh sta nulla Sta nulla L'hai visto Eh nah non paio Eh Che vevi un schino chita dietro al muro dietro al muro guarda quanta roba sta sprecando bello ma che è? cosa è questo? si ma che stai a fa? no no e vabbè dai non gli ho dato la delusione di morire dalla cosa perché lo rifà? ma che mi frega ma che mi frega ma dai ma venti bombe vabbè ma che me frega Marzò vabbè sì no non ti sto a dire che non le rifarai le fai sempre però che cazzo ma volevo che mi fai tasse che facesse qualcosa ma che dove va oh capito era troppo botto per essere ucciso cioè l'ho risparmiato non 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 ma